bello a tutti ragazzi sono DarkTiger ben ritrovati sul mio canale oggi siamo tornati su Sirius Sam 2 eravamo rimasti l'ultima volta qui se non mi sbaglio non vorrei sbagliarmi ma settimo episodio parte molto bella questa me la ricordo molto bella come parte di Sirius Sam è l'introduzione come ogni fottuto livello helicopter l'abbiamo già incontrato prima ma ce lo introducono ora non so il fottuto motivo però si ce lo introducono ora l'elicottero e vabbè aspettami il caricamento signori spero che l'audio si senta ma comunque si sente perché scusatemi lo ripeto nei primi 5 video l'audio non si è sentito porca troia e qua ci saranno i nicodemi che mi aiuteranno e qua potete immaginare quanti segreti ci sono in tutta quest'area io si ora neanche 1 mi ricordo però mettiamoci 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 vai 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 e se ne vanno oddio scusate la tosse ma non vedo nessuno qui e vado a prendere mo però faccio il casino così eh è un po' insana quelle cose però vai bro ah ci sono pure quelli giganti eh boom come veri mi arrivano pure da sinistra di qua non arrivano da nessuna parte attenzione e quello mi salto vai 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 rega sono ancora 500 vai caricamo che domani è festa noi quanti siamo euforici oggi arrivano pure i supporti che troia e no cazzo no cazzo rega come sono fatto a riuscire ora vai bella lì la cadere il cazzaccio guardano ehi edish of beach ehi edish of beach quei edish of beach edish of beach come edish eh rega scusati cali di frame ma perchè calo in i frame no 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 eeeh arriva lui mi caccia si ma no guarda l'ho preso quell'altro il coglione va di spalle oggi sono veramente euforico extra vai perchè quello bicchia di là fatto no 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 non è fatto non è fatto vai ma spunto agli 3 2 1 no se uscivano per me ma mi sa che l'ho preso prima niente che palle va bene andiamo avanti siamo giunti già qui eh tutto qui la roba ora vorrei saltare qualcosa dei segreti li voglio fare tutti magari qua dentro c'è un segretino rega veramente scusate ma non so il perchè dei cali di frame cioè guardate che schifo di merda guardate vaffan qui beh comunque niente non vorrei saltare qualche segreto che non credo ci sia qualcosa comunque andiamo avanti ok ci dobbiamo controllare intorno e trovare una chiave ho già visto mamma mia ho messo proprio male ah no non è la chiave ok allora e vabbè troviamo questa chiave magari intorno l'ho già trovata era oltre il muro vabbè poco difficile però vabbè eh era era piuttosto intuibile come cosa coglione ok oh quello si guarda ciao bro fatto qualcun altro lui è buggato si ferma pochi bughi in questo gioco comunque ok possiamo andare che deve tagliare i cazzi vai io avanti ora mi fanno salire un corridoio lungo 90.000 metri un po' laggante non l'amo laggante attenzione questa parte me la ricordo forse vedete che viene col vazio che non si sa mai eh appunto no lo sapevo rega veramente lo sentivo no 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 quest'arma che cazzo faccio chi sono chi sono ah no rega loro vi prego aiuto loro no loro no rega aiutatevi oddio dove cazzo arriva rega fammi arano eh è arrivata alla fine rega porca troia possibile allora oggi sono veramente un po' rega qua corriamo 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 meglio si corriamo eh non è vero oh rega me l'hanno fatta saltare che bello avete visto che paghetto bello carino eeeh i cagnolini no eh le voglio vedere i cani già vedo ogni giorno questa forse non la devo dire cazzo ma one shot sto caglio fanculo cosa se non mori bro fanculo godo o mi spunta a gesù da fu mi parkour i hate spikes il parkour sul serio same signore e ora ah no ma l'ho no rega aspettate però eh eh si mi sembra un pochino strada una cosa no rega mi sembra un pochino c'è puzza di segreto qui rega non mi posso cioè non ho colpi di bazooka non posso non posso distruggere perché non ho colpi di bazooka quindi ne avevi sparato torniamo giù mi richieni vediamo no non c'è niente eh no quindi no torniamo su ok c'è dato l'ejemmo però perché credo ci sia qualcosa di molto bello da sotto intanto ho visto roba e vado a prenderla eh cominciano le musichette qui no no via da qui via da qui eh qua bisogna camminare con non c'è razza eh no eh no eh no qua è difficile qua è difficile qua è difficile bombarda lì bombarda lì fatto oddio che culo via 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 c'ho questi magari dove c'è la mano di Sam ve ne sono accorto ora ciao bro oh oggi sono veramente ciao amico grande eh raga qua c'è una bellissima boss fight oddio quanto è grande là sotto c'è pure un tesoro quanto ho visto così là e lo andiamo a prendere eh di là forse c'è anche qualcosa eh non mi piace non mi piace non mi piace un pochino troppo grande quindi eh i cozzini sapete come sono no cioè dovete colpirli quando sono fermi perché sono dopo il cazzo eh sì però ti devi stare fermo raga come cazzo lo prendo è vaffanculo e che dov'è 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 il tesoro sì ok e no e raga scusate la doppia boom eh ma perché non uso i tagli oh sì ciao amico no sì prezzo e arriva regà non so se devo andare di là o devo resistere semplicemente però no mi piace resistere e di là ci sarà eeeh ma no porca troia cos'è ah regà però ci sono i miei amici adesso è il numero male cazzo di merda ehi regà che cazzo di trogliette però eh vai vai che i minisi non ci abbandonano mai faccio no faccio proprio per niente eh vado a colpire a quello lo so ok vai 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 regà ci siamo ci siamo non sul ritmo della noce però è poi un bordello eh oggi sono veramente un foro e basta ma io lo so ci sono i miei amici con me ci sono i simbatti i simbetti e poi tutto questo no per recuperare un medaglione della minchia che non mi ricordo neanche che cazzo serve sì però si smette di spawnare cazzo ho capito che è un'arena però oddio lo dovevo un pochino aspettare questo gioco porco 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 cazzo 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 amico mio è proprio un malato mental oggi sono veramente un foro no basta poi a un certo punto anche il cazzo grande sciamano ecco le drogatine e se ne va trottorellando di esso no questi tipi di parkour non mi piacciono no perché no regà aspettate oddio eh regà non mi funziona la W cioè guardate non sto scherzando non mi funziona la W regà un attimo perché veramente non mi funziona la W eh regà oggi sono veramente un foro non mi funziona la W guardate e mi sono salvato su un bordo però scusami se tu non mi sali non è che è tanta colpa mia ok fight a re boss arena molte molte aree sembrano fai boss arena però infatti sono così però qua non mi piace la musica quando c'è questa musica ci sono o i fili di puttana che esplodono regà perché qua si va a musica sto scherzando ovviamente eh ma sei veramente un forico cazzo eeeh ho preso no non l'ho preso eh infatti o ci sono loro eh infatti me lo devo spezzare regà vi giuro non mi sto capendo una peata cioccolata aaaah lo ho preso lo uccido non l'ha le tempistica guarda dire la tempistica porca dai eeeh questo qui si no ora mi è arrivato il gioco ooo sta per arrivare sta per arrivare in prospettiva ciao ciao schivata molto mi sa che non vai lontano proprio a cab de cristo zi guarda non è il pappagallo com'è è poco estressivo regà qua mi si è interrotto praticamente la registrazione però dopo dopo un casino di tentativi fortunatamente ci sono riuscite quindi regà io vi saluto dark tiger è tutto bella grazie a tutti